Siamo in compagnia del sindaco di Lecce Paolo Perrone, dopo la importante vittoria, un risultato importante perché il 64% finalmente raggiunta, risolto in una sola mossa il nodo delle vuote rosa e anche del vice sindaco, naturalmente è il momento anche di pensare a tutta la squadra, in questi giorni si sta lavorando per individuare presidenze di commissioni, gente che sarà all'interno dello staff, ma cambieranno le cose anche per gli alleati oppure il Presidente del Consiglio individuato rimarrà comunque sempre Alfredo Pagliaro? Il Presidente del Consiglio lo sceglie il Consiglio Comunale, io proporrò il Dottor Pagliaro, Dino Pagliaro perché questo fa parte dell'intesa che abbiamo raggiunto con le forze politiche e anche perché credo che sia una persona adatta per rivestire un ruolo di prestigio, per esempio la seconda carica del Comune ha esperienza, capacità dialettica e di mediazione per poter rappresentare al meglio, per poter rivestire al meglio il ruolo di Presidente dell'assise comunale. Per quanto riguarda il resto è evidente che oggi siamo in una fase, diciamo la fase B delle cosiddette trattative che porteranno poi alla determinazione dei rappresentanti all'interno delle varie commissioni con le presidenze. I criteri quali saranno? I criteri saranno quelli di rappresentare da una parte numericamente i risultati delle varie liste e dall'altra parte privilegiare le specificità professionali, diciamo di esperienza dei vari consiglieri. Si pensa anche a una lista che si è sacrificata un po' di più, la voglia prima di tutto? Per esempio oggi si parla di disannò sul giornale? Ci sono varie ipotesi, certamente troveremo una formula che sia la formula migliore anche perché al contrario di quello che è avvenuto negli anni scorsi io vorrei che le commissioni fossero veramente il luogo dove di fatto si svolge la gran parte del lavoro e poi arrivino in aula le delibere già approfondite dall'analisi svolta in commissione. Quindi anche per Cairo ci potrebbe essere una presidenza? Per Cairo poi vedremo su questo. Invece lei ha tenuto la cultura, un settore fondamentale per lei. È vero che si farà aiutare da Massimo a far agliare esperienza nel settore? Tutti daranno i loro contributi, ci mancherebbe. Io ho deciso di tenere la cultura per il momento perché ci sono delle questioni importanti da far partire innanzitutto l'allestimento di questo progetto per la candidatura di legge città europea della cultura per il 2019 che richiede per la necessità di interlocuzione con i vari livelli istituzionali dal governo alla regione e così via, alla capacità di coinvolgimento di tutto il tessuto economico e non solo degli operatori culturali del territorio necessitava che fosse il sindaco a presidiare questo processo. Quindi è stata una scelta di questo tipo chiaramente definita. La sfida della cultura, poi c'è la grande sfida del piano urbanistico, è un momento importante, Carlecce. Ci ha spiegato Martini che si svilupperà questo piano tenendo presente le marine, per esempio San Catalato. Il senso è quello di cercare di valorizzare, di rafforzare i punti di forza della nostra città, e quindi la vocazione turistica, di città di cultura o di città con un grande patrimonio monumentale architettonico da una parte e dall'altra di valorizzare quegli aspetti che fino adesso secondo me sono stati sottovalutati. e quindi la vocazione delle marine, quindi legge anche città di mare, le relazioni tra il centro e la periferia intesa come i borghi rurali. Noi abbiamo una campagna straordinaria che rappresenta una grande occasione anche per legge città turistiche di attrazione. E poi soprattutto il fatto di recuperare questa idea di qualità dell'abitare, che è uno degli elementi fondamentali della qualità del vivere. Quindi puntare a un'edilizia che sia un'edilizia moderna, rispondente alle esigenze normative e anche all'attenzione soprattutto nei confronti dell'ambiente piuttosto che del risparmio energetico, ma anche ribadagnare l'estetica, quel senso della bellezza come elemento determinante di questa qualità del costruire. Quindi in questo senso si fa rivolto anche alle... Certo, perché parliamoci francamente, se guardiamo la nostra legge abbiamo un centro storico straordinariamente bello quindi un'architettura di grandissima qualità del passato abbiamo avuto dei momenti importanti anche nell'era moderna, se pensiamo al periodo del fascismo abbiamo un'architettura importante poi ci sono stati alcuni passaggi dove la qualità del costruire sicuramente non è adeguata alla qualità del costruire precedente ci riferiamo per esempio all'edilizia contemporanea degli ultimi decenni ecco noi dobbiamo riconquistare la capacità di esprimere un'architettura di qualità e abbiamo degli elementi che ci fanno ben sperare il fatto che Siza sia venuto a legge, ci sono degli interventi anche di carattere architettonico però la storia finirà bene molto significativa mi auguro di sì certo perché insomma ci sono stati... c'è stato qualche intraccio nel percorso però non credo... si dovrebbe concludere a breve per chiudere il discorso state pensando anche allo sviluppo verso i paesi limitrofi quelli confinanti con legge ci sarà un... come dire... per quanto riguarda delle cessioni territoriali per... noi abbiamo fatto l'accordo con Trebuzzi e Squinzano per Casalabate che di fatto è passata sotto la competenza di quei comuni questo è stato... si è reso necessario perché di fatto da un punto di vista proprio culturale quella marina era la marina di Trebuzzi e Casalabate per il comune di Lecce era anche complicato dover gestire una porzione di territorio così lontana dal centro cittadino quindi è stata una soluzione assolutamente... garantirete il verde, gli spazi giusti in questo sviluppo che state... a cui state pensando? l'ambiente, il verde? sicuramente sì perché questo fa parte della qualità del vivere di una città però senza parlare di quello che faremo possiamo portare come esempio quello che stiamo facendo fra qualche giorno inaugureremo il Parco dei Barbini via Giovanni Paolo II e subito dopo la cosiddetta Trax Road sulla via di San Cataldo i lavori del... per tornare al Sizza del parco realizzato da Sizza sono già iniziati quindi stiamo andando avanti, i risultati sono lì non è soltanto slogan non sono soltanto slogan come annunciazione di garantenza stiamo lavorando e a breve consegneremo la città a questi primi due parchi immediatamente e l'altro fa qualcosa chiusura, come si salva il PDL? visto che in Italia non è andato bene qui voi potete dare qualche informazione su quello che è successo a Lecce? il PDL si salva se si ritorna a guardare a quei valori che sono stati poi valori ispiratori della rivoluzione di Berlusconi passione e merito devono essere le variabili su cui valutare la capacità di un operatore politico passione certamente perché senza una motivazione che venga dal proprio intimo non si può essere amministratori efficienti e merito perché bisogna legare le opportunità di crescita e di carriera alla capacità che ha ciascuno di interlocuire con il proprio territorio e di ricevere su di sé consenso bene ringraziamo il sindaco Paolo Perrone e vi diamo appuntamento al prossimo incontro arrivederci